Danilo Correia Revisore Revisore e 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 Revisore Che ruolo giocano l'Italia e l'Europa nella politica internazionale? Che ruolo giocano gli Stati Uniti? Di solito per rispondere a queste domande si guarda ai rapporti di forza sullo scacchiere internazionale, cioè al modo in cui il potere è distribuito tra gli Stati. Gli Stati più forti o quelli con maggiori capacità militari ed economiche, di solito dettano le regole, quelli più deboli si adeguano, se non lo fanno subiscono le conseguenze. Oggi vorrei proporre una soluzione alternativa, una soluzione basata sull'idea di carisma. Voi mi chiederete che c'entra il carisma con la politica internazionale, e come il carisma può essere un'idea utile a risolvere il caos globale in cui ci troviamo. Beh, io sostengo che l'idea di carisma può essere utile perché ci apre lo sguardo a una particolare visione del mondo. Di più, a differenti concezioni e significati del termine carisma possiamo assegnare differenti visioni del mondo nell'arco della storia europea e internazionale. Allora, quello che vorrei fare è invitarvi a un viaggio, un viaggio a due tappe. Un viaggio alla scoperta di diverse visioni del mondo, diverse idee di carisma nell'arco della storia europea. La prima tappa di questo viaggio è chiaramente Max Weber, il padre della sociologia moderna. È quello che inventa l'idea moderna di carisma, il modo in cui usiamo il termine carisma oggi nel linguaggio comune. Weber pensa che il carisma sia un attributo di leadership, il carisma è un tipo di autorità politica, lui lo definisce una qualità di un individuo in virtù della quale quell'individuo è considerato come straordinario, come se fosse dotato di poteri addirittura eccezionali, sovrumani, dice Weber. Ma questo vuol dire che per Weber il carisma è una questione di qualità percepite o credute straordinarie. Significa che tu puoi anche essere dotato di virtù eccezionali, ma sei carismatico solo se un altro attribuisce senso a quelle virtù. Gli altri attribuiscono senso a quelle virtù. In fondo questa idea funziona perché è abbastanza intuitiva. Se ci pensate, noi nel linguaggio di tutti i giorni siamo abituati a dire magari che un'opera d'arte è carismatica, un leader politico, a volte perfino un personaggio dello sport. Ma se io vi chiedessi che cos'è in particolare che rende queste figure o addirittura l'opera d'arte carismatica, Weber ci dice ok, sono una serie di qualità che noi percepiamo come carismatiche, ma quali sono? Allora questo è il problema dell'idea Weberiana di carisma, è quello che noi chiamiamo l'X factor. Quell'X sta proprio a significare un'incognita, una specie di virtù misteriosa che se la possiedi allora sei carismatico. Beh, quale? E in più c'è un altro problema, quello del carisma autoritario. Beh, se è solamente una questione di qualità percepite o credute straordinarie, se non conta tanto quello che fai, ciò che sei, ma conta come gli altri ti vedono, conta come gli altri attribuiscono un significato a ciò che fai, a ciò che sei, beh, allora sei un leader carismatico finché hai un seguito. Sei un leader carismatico finché gli altri ti pensano carismatico. Beh, potete immaginare il problema qui, e se pensate al rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e chiaramente gli europei cedono porzioni della propria sovranità nazionale, cedono la leadership sul continente europeo al gigante americano, ma quali sono queste qualità americane, queste virtù eccezionali che noi riconosciamo come straordinarie? Forse le capacità economiche, quelle militari, forse addirittura le capacità culturali. Beh, questo è il problema con la definizione di carisma. Ma Weber ci dice, aspetta, forse non ti so dire con precisione quali sono quelle qualità, ma ti so dire quali sono le condizioni favorevoli per vederle, per scoprire queste qualità. Allora, sono due condizioni. Una è una crisi di emergenza e l'altra è una visione profetica del futuro. Seconda Guerra Mondiale, ancora l'esempio, l'Europa è chiaramente in una condizione di emergenza, devastata sotto tutti i profili, ma non c'è una sola visione profetica del futuro, ce ne sono due. C'è la visione degli Stati Uniti, ma c'è la visione sovietica. In fondo anche i sovietici possono vantare capacità militari, anche i sovietici vantano capacità culturali ed economiche. Che cosa ci spinge? Perché finiamo sulla sponda americana? Che cosa ci impone una visione americana del mondo? Allora, il mio argomento è che, per rispondere a questa domanda, dobbiamo arrivare alla seconda tappa del nostro viaggio, all'idea di carisma secondo San Paolo. San Paolo, innanzitutto, vede il carisma al plurale, in greco carismata, doni dello spirito fatti a tutti gli uomini per l'edificazione dell'umanità cristiana. Ma questo significa, e vedete subito la differenza con Weber, che non si tratta tanto delle qualità di uno e di come vengono percepite dagli altri, si tratta di doni condivisi. Tu puoi anche avere dei doni straordinari, ognuno di noi ha dei doni straordinari individualmente, ma quei doni hanno senso se li mettiamo in comune, se li mettiamo al servizio di una visione comune. Allora, San Paolo ci aiuta a vedere, nell'esempio che abbiamo fatto prima della Seconda Guerra Mondiale, perché il capitalismo vince sul comunismo, laddove impone una visione comune, laddove impone un'istituzionalizzazione di questi doni, di queste capacità straordinarie, pur diverse, ma tutte concentrate nella visione di una prospettiva comune. Con la Banca Mondiale, la Nato, con le istituzioni che gli Stati Uniti fondano in quegli anni, in qualche modo gli Stati Uniti inventano quello che possiamo chiamare il corpo carismatico della comunità internazionale. Voi vi starete chiedendo, l'Europa oggi non funziona tanto, come una comunità politica carismatica. A dirla tutta, non sembra neanche tanto una comunità politica, non sembra avere una identità politica comune. Ed è qui che io penso che l'idea paolina, l'idea di San Paolo, di carisma, può essere davvero utile. Anche se siamo arricchiti, sì, dai doni del gigante americano, non siamo riusciti a trovare un'identità comune. Perché? San Paolo insiste. San Paolo ci dice che carisma viene da caris, l'etimologia di carisma viene da caris. Caris significa doni o favori incondizionati, liberi, cioè non mediati da interessi o meriti propri. Significa anche un favore non dovuto, qualcosa che non ci è dovuto. E per questo significa che quando riceviamo un favore di questo tipo ci sentiamo in obbligo di restituirlo. Allora ancora, vedete come San Paolo ci impone di pensare, il carisma ci dice che essere carismatici in realtà significa innanzitutto riconoscersi in quei doni e riconoscere la necessità di doverli restituire. E ancora di più riconoscere e accettare il fatto che quei doni li abbiamo ricevuti forse non per meriti nostri. Un esempio interessante per darvi un'idea di come funziona questa visione del carisma è quello dell'ospitalità nell'antica Grecia. Saprete sicuramente che gli antichi greci avevano questo concetto dell'ospitalità come di una cosa sacra. L'idea era che la visita di uno straniero nella tua casa, nella tua città, rappresentava una sorta di dono divino. Ti sentivi in obbligo, sacro, di dover ricambiare questo favore divino. Infatti un episodio molto comune nella mitologia greca è quella di un Dio travestito da straniero che bussa alla tua porta. All'inizio la città, la tua casa, all'inizio sei reticente, non lo accogli, ma poi è ospitandolo che diventi carismatico in questo senso. Anche nei Vangeli l'arcangelo Gabriele bussa alla porta di Maria. Maria all'inizio è reticente, ma è ospitando l'angelo, è accettando il dono dell'angelo che Maria diventa carismatica, nel senso paulino, che Maria diventa madre di Dio. Allora, quando lo straniero bussa alla nostra porta, il dibattito, se permettete, povero, politico, europeo ed italiano, ci costringe a questa visione, a questa dicotomia. Da un lato, quelli che necessariamente vogliono chiudere le barriere, che vogliono spingerci verso un'idea di comunità nazionale, di sovranazionale chiusa, e dall'altro un'apertura assolutamente indistinta delle barriere, dei confini senza regole. Ma queste, se vediamo questa storia, quello che ci sta accadendo con una visione paulina, queste due spinte non sono necessariamente contrapposte, vanno semplicemente riordinate. Perché senza l'apertura e la condivisione, la comunione, senza il carisma paulino, quello che resta è semplicemente la subordinazione al potere americano, è semplicemente il carisma di Weber. Senza l'apertura di una comunità europea politica effettiva, senza la presenza di un'effettiva comunità politica, non possiamo aprirci, ma aprire e fondare una comunità politica che sia carismatica significa anche aprirsi e arricchirla con i doni che provengono dall'esterno. Allora, per chiudere, il carisma di San Paolo ci impone una visione che va oltre la semplice reciprocità di interessi materiali. È una visione che, per chiudere con le parole di Martin Luther King, è creatrice e redentrice. Una visione di buona volontà per l'umanità intera. Grazie.